Ciao, in questo video faremo lo studio degli arrivi a trave. Partiamo dalla trave, facciamo il stato dietro a raccolto e vediamo chi è la prima che arriva a tre stoppati. Pronte? Subito pronte, per favore. Uno. Uno. No. No. Grazie Kate. No. vi mettete tutte nell'altra trave così riuscite a salire da là anche quando scendete vi salite subito da là perché se mi passi dietro ballo e traballa il video 2 per Giada 2 per Kate 1 per Fede 1 per Debi 1 per Emma 3 per Giadi 3 per Kate quindi siete a pari merito bisogna fare lo spareggio no brava 2 per Debi 2 per Emma chi è la prima si ma dopo ok stop ferme quindi prima sono Giada e Kate quindi facciamo il primo per il primo posto allora o salto dietro Carpio o salto avanti raccolto cosa avete deciso salto avanti ok la prima che stop ha vinto no per un eh ok se stop ha Kate no vince Giada grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti